Cari amici bentrovati, spero che questo periodo estivo sia per voi motivo di serenità, di recupero delle forze, di riposo, anche di qualche sana lettura. Riprendiamo il nostro cammino alla luce del Vangelo in questa domenica che precede la solennità dell'assunzione di Maria. Gesù ci appare nel Vangelo di quest'oggi un poco scorbutico. Costringe i discepoli ad andarsene, congeda la folla, c'è da chiedersi perché fa questo. La risposta è da cogliere sul piano storico. Talvolta il Vangelo evita di entrare in queste problematiche. Cos'era successo? Gesù aveva sfamato circa 5.000 uomini e la folla voleva farlo re. Gesù sa che a circa 10-12 chilometri vi è una reggia con un tale di nome Erode Antipa. Cosa avrebbe impiegato la notizia a giungere fino a Tiberiade e quale carneficina ne sarebbe derivata? Gesù costringe i suoi ad andarsene, congeda gli altri e va a pregare. Forse ci sta un monito per noi preti e una indicazione pastorale precisa per tutti i credenti cosiddetti impegnati e maturi. Dinanzi ad eventuali successi e plausi, allontanare i collaboratori stretti, congedare i soddisfatti, soprattutto ritirarsi in preghiera, potrebbe essere una scelta a cui ricorrere senza paura. Ma ascoltiamo con attenzione la pagina evangelica. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congelata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul fine della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero, è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo, coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare, gridò, Signore salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrano davanti a lui dicendo, davvero tu sei il figlio di Dio. Il Vangelo presenta due annotazioni di tempo. Il sopraggiungere della sera e il finire della notte. Sono immagini quasi plastiche che ci presentano due situazioni differenti fortemente contrapposte. La notte che vede la fatica degli apostoli immersi nel mare della storia e il sorgere del giorno che vede il risorto manifestare la sua potenza e la sua gloria. Noi stessi siamo immersi nel mare della storia e il Signore è entrato nella notte che ci avvolge per aprirci alla novità del mondo nuovo. In quel mare ci siamo anche noi, le nostre fatiche, le nostre paure, i nostri dubbi, le nostre attese, la nostra debolezza, le nostre sofferenze. Il Signore vede che la barca è agitata dalle onde e dal vento contrario. Andò verso di loro camminando sul mare. Quando Gesù si presenta non è immediato riconoscerlo. Questo potrebbe anche stupirci ma capita anche a noi e non solo agli apostoli. Quante cose noi sappiamo di Gesù eppure non lo sappiamo riconoscere quando ci viene incontro. Diciamo di credere in Lui ma quante volte la nostra fede è solo apparenza. Vogliamo seguirlo certamente ma ci troviamo pieni dei nostri pasticci e della nostra suscettibilità. Gesù non ha una parola di richiamo. Con virile dolcezza dice loro, coraggio, sono io, non abbiate paura. È bello pensare che ogni giorno il Signore si rivolge a noi sul finire della notte, coraggio, sono io, non avere paura. Ci sarebbe da riflettere a lungo sulla paura che ci assedia, sulle tante scelte messe in atto semplicemente per paura, sulla grettezza delle nostre paura, sulla scelta di comodo che scaturisce dalla paura. Ci sarebbe pure da riflettere a lungo su quel io sono con cui Gesù si presenta dichiarando la sua divinità. Domenica scorsa abbiamo visto il risplendere della sua divinità nel momento della trasfigurazione. Qui lascio il compito ai vostri parroci che sono più bravi di me. Anche noi, come Pietro, spesso sfaccendati, affrontiamo il Signore con una prova di forza. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Pietro riceve, così anche noi, un invito accondiscendente. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò, Signore salvami. Il nostro rapporto con il Signore è spesso una relazione segnata da tante paure, come d'altra parte la nostra stessa vita. Noi viviamo di paure, talvolta ne siamo assediati e inevitabilmente diventano il vero motivo che orienta le nostre scelte. Gesù offre a Pietro la possibilità di camminare sulle acque di camminare sulle acque. Ma Pietro conosce bene quelle acque. Esse rinchiudono le sue fatiche, il suo sudore, forse anche qualche dolore. Pietro sa che per un uomo camminare sulle acque è impossibile. Affonda, ha paura, grida. Gesù tese la mano, lo afferrò. Ecco, vorrei concentrassimo la nostra attenzione su questo passaggio che la vicenda del Vangelo ci offre e di cui ci rende partecipi. Sempre Gesù tende la mano a ciascuno di noi. Sempre Gesù ci afferra con il suo amore e la sua misericordia. Gesù sa che per noi le acque sono paurose, sono infide. Non viene meno però la sua condiscendenza e la sua grazia che possono fruttificare unicamente con la nostra fede. Chiediamo grazia di affrontare il mare della storia senza temere le acque pericolose, le acque difficili, le acque faticose da solcare. Buona domenica a tutti voi cari amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti.